non c'ho ancora non mi hanno ancora accreditati i soldi per comprare il cendolo dei fanatici no però mi devo dire mi sta piacendo il punto è che devi stare proprio super a sentire i rumori proprio si fra tutto super fatti stavo là tipo dove cazzo no ma poi giorgio cioè tu spari mi eri già bene ti muovi anche bene ripeto sul capirle no ma devo capire da dove entrano loro più o meno dove sono i posti per briciare perché sennò non trovo la gente non ho la più pallida idea sì sì tu devi capire anche gli attaccanti che giro fanno qua è libera però purtroppo non puoi capire perché gli vedvano con a caso sì c'è uno da una parte due da un'altra sono tutti a caso a me quanto gli voglio sparare o porco due marzo io ho una voglia di spararti incredibile dai ma da dove cazzo mi sta sparando sto però voglia un operatore alleato what non lo può visto raga ma neanche io guarda che mira di merda questo occhio raga questi qua mi sembrano abbastanza spazio vieni ok oh 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 ha quittato semo se io vorresti briciare apri apri non c'è retto tre coltellati ok quello è una persona ah posso? un operatore d'attacco vai vai non c'è nessuno ma perché doveva starla giù what non ha se sta costando what aspetta ma c'è ma c'è ma c'è no bro ti ho lottato io quello con lo scudo mi dispiace ma insomma se avevo passato non ti preoccupo però che qua non mi fa niente non è quello voglio sparare all'altro ok l'altra l'altra destra è qua nell'angolo tornate a occuparvi del contenitore non vi avremmo trattato la minaccia no la squadra d'attacco ha eliminato i difensori ma marzo ti giuro non volevo eh si ma non ti preoccuparci non hai giocato niente no ma ma ti giuro marzo io stavo sparando sei proprio entrato tu ti ho tritato ma manca a farla apposta ma manca a farla apposta ma un sui non ho un buon morto Gio senza meterti troppa pressione fa da venti di vita sei uno lo so lo sento regà io vi giuro io non sto io non sto sentendo i passi non li sento regà vi giuro li sento io ti preoccupate li dico io ma perché tu stai parlando se tu non parlassi li sentirei io è zitto mazzolo è per concentrare Gio mon gassi mon gassi bravo vabbè ragazzi no vabbè missione completata what up boys ho fatto un one tap headshot ragazzi quarta partita dai ok la mira c'è là voglio dire vabbè la mira la mira c'è ragazzi è ma usato a stir pulito questo marzo vaffanculo che non mi fai sentire ma hai visto dove stava cioè se ti arriva vicino i pasti i denti uguali ma no marzo io già non ci sto capendo un cazzo ma perché non capisci un cazzo esattamente no chi è che mi ha inculato il cazzo uso come si usano gli altri merda allora fiozzi con lo scudo e la uno ce l'ho qua sotto uno ce l'ho qua sotto termite ce l'hai a destra si 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 lo so lo so fatto il drone uno a sinistra e uno a destra ragazzi c'erano due qua eccolo c'era uno qua alla mia destra una alla mia destra si si sentite rompere interrogo ok ultimo attaccante rimasto in vita la prendo io la prendo io la prendo io ma vittoria alla difesa nemici il game non male che è un pippone alato questo vuol dire cosa si riesce da merce se metti la medallina notturna senti mai gli suoni opzioni audio ok lo voglio volevo comprarla al volo per fare lo scioppone bastardo ragazzi non c'è ancora il punto ti odio marza ti odio che vuoi da me tronto di merda cioè ma se tu entri in una stanza girata di schiena sei morto eh se tu entri in una stanza girata di schiena sei morto praticamente si perché dovrete entrare in una stanza io a destra perché magari guardi l'angolo a destra lui all'angolo a sinistra ma ti devi sentirlo e se lui è fermo e se non lo senti muori se non lo senti ricordati che Beethoven ha composto muoci che è stato solo un e sopra di me occhio la squadra d'attacco ha trovato una bomba dal mese prossimo le metto per mo mi sto divertendo perché vuoi dire che dopo non ti divertiresti no però non ho adesso non ho in mazzo ho un al campo sparami i piedi attraverso sto coso comunque non hai uno al campo attraverso si sopra prima andremo a terra no però muori sicuro vabbè proviamo no però ok era meglio se muorievi come se stai è come se è stato un vasca no c'è un drone lì ricarico lo potrà ammattare a Giorgio no no fermi che cazzo dì dai prova vai lì contro corri sogli la cazzo di mira sta zitto mamma mia scimmione ma sono stato individuato da cosa te lo guardio raga mamma dice che sono individuato da cosa ma è uno squadra d'attacco eliminata missione completata ma mi hai detto individuato c'ho paura che era vicino a me che aveva usato il drone che cazzo ne so ma se ti dico che ti sto guardando e non c'era là perché non ti devi fidare perché dove metti paura Marzo non ti metto paura io voglio che vinci no Marzo è che so confusissimo dai rumori quindi sto cercando di capire bene le cose non so i rumori non so niente lo so però io che c'ho i rumori cioè devo capirli io se tu me lo dici non conta un cazzo perché la percezione dei rumori è la mia dal buco no quello l'ho capito quello l'ho capito quello l'ho capito devi capire dove stanno in base a dove solitamente vanno no no dove solitamente vanno non lo posso sapere quindi per questo mi muovo tutto ma infatti premando tutti i corner premo tutte le mire faccio tipo così tutti gli angoli io lo so o il picco e tutte quelle cose ma non ci sta si ho capito ma io devo andare io devo andare con la sicurezza ma c'è l'arcobalino ah ma è sparato tu questo lì lo posso romper se gli tiro la cosa no si 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 vai bene bravissimo bravo da tutta l'altra parte che cazzo ci faceva lì dopo non picchiare mai dalla stessa posizione giù prima alza ti puoi abbassarti e fai viceversa sopra non arriva nessuno non arriva niente si si ma ho sentito il rumore la per te spara quale finestra a destra in corridoio a caso no dici prova perché dove stavi sparando prima quell'altro magari te l'ha spottato lì fai volta l'ha invitato prova le secoli lo spot te l'ha spottato no raga tenetevi per il regano non senti i rumori no si è sentito che correva raga si è sentito si è sentito che sei mosso guarda come stava no 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 uno l'ho sentito che camminava raga ma guarda questo qua ho ucciso anche me il suo bastardo no no è il 4-3 la squadra d'attacco ha trovato una bomba mannaccia 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 stavo cercando di mirare ai vari spot e cercando di capire come devo mirare sto faticando una marea ragazzi vi giuro la metà vita termine ho sciogli di guardare la porta a sinistra allora chiamano raga riesce a fare fare alla porta alla mia sinistra io ne ho portato un operatore alleato c'è asce 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 ah si è rampinato la finestra non puoi passare di qua che devo fare devi provare ad ammazzarli devi disinnescare la bomba come si disinnesca è rampinato sulla finestra no c'è una bomba la devi trovare regà non ho regà non mi avete spiegato niente c'è la bomba dove cosa regà non ho capito più niente lì lui plantava una bomba tu devi trovare probabilmente la sotto di lui la bomba la piazza in giro non su quelle si 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 no la piazza in giro ah io sono andato là ma hai detto devi disinnescalla ok sono andato lì infatti che devo fare non capivo no ragazzi mi sento uno scappato di casa questa cosa della bomba da ritardato cos'è quella cosa chat a dentro 10 HP ce l'ho davanti ce l'hai testa a destra a destra sta bene fatto bello Giorgio planto mica la bomba plantato disinnesco bomba avviato progetto vittato a morte vai tu vai tu Marzo è lì giù è vittato ancora è one shot lì no giù giù vai sei salvo fatto ho una dietro di te capo DJ ma ma che strano movimento ha fatto era quella era quella capito che prima avevo panicato eh lo so ma che cazzo è ha fatto un limbo ho bella Marzo però che cazzo abbiamo fatto lì pic contro pic no ma ti giuro non sapevo proprio io quella trappola l'avevo vista tre ore fa però non sapevo io pensavo che era un oggetto per terra devi stare attentissimo te la mettono sotto le finestre infatti quando scavalchi spara sempre per terra vai tutto giù col mouse e spara è diventato una bomba le mani per terra non ti puoi muovere andiamo in fondo in fondo raga adesso io sono andato in fondo in fondo in fondo giù non ti fermare tira dritto senza ma fa culo perché ti do pure retta mi hai fatto da scudo perché ti do anche retta la chatta è partita con tira dritto power on 025 mi trasferirei a Roma non credo cioè se mi trasferisco quando avrò i soldi in Milano più comodo per lavorare ero scusa errato l'abbiamo vinto adesso è una bella la scena di Yuki scler l'abbiamo vinto l'abbiamo qui l'abbiamo 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 Ave inki burial è ồng